Ciao ragazzi, finalmente riesco a farvi la recensione della DJI Osmo Mobile 2 che sarebbe la Gimbal o Gimbal, dipende da alcune chiamazioni, ma nell'altra o nell'altra secondo me si dice Gimbal, comunque va bene lo stesso che è la Gimbal per i cellulari, che come vi ho promesso dopo averla utilizzata un pochino vi recensisco partiamo dal fatto che vi arriva con una bella confezione fatta di questo materiale tipo poliuretano una roba del genere che è bella rigida, quindi vi permette di portarla in giro senza che si rovini l'unico problema è che occupa un pochino di spazio con la confezione però insomma almeno vi danno già una protezione senza doverla comprare a parte ce ne sono ovviamente, ci sono confezioni per portarla in giro più compatte però bisogna pagarla a parte, io al momento continuo ad usare quella che danno insieme alla Gimbal quindi vi arriva questa e la confezione è molto minimal come vedete c'è la Gimbal e un cavetto di ricarica che è un classico cavetto mini USB che ce ne abbiamo tutti a milioni in giro per casa allora cominciamo a tirarla fuori così poi posso far fuori la confezione che non ce ne frega niente allora eccola qua come si presenta la Gimbal praticamente vedete ha tre pulsanti qua e un coso che scorre qua allora due pulsanti, uno sono per registrare, uno per accenderla, per cambiare la modalità eccetera poi questo pad che serve per muovere, dopo lo vedremo, serve per cambiare l'inquadratura e un affare qua di lato che serve per zoomare avanti e indietro allora io insieme alla Gimbal ho ordinato anche un mini treppiede che costava tipo 5-6 euro me lo proponevano insieme alla Gimbal su Amazon è utile avere il mini treppiede perché vi permette di attaccarlo qua sotto l'attacco è standard quindi potete usare qualsiasi treppiede che abbiate già uno piccolino così vi permette di portarlo in giro molto facilmente però qualsiasi treppiede fondamentalmente va bene vedete almeno quando la posate siete tranquilli per prima cosa va preso un cellulare, io vabbè ho il mio iPhone ma qualsiasi cellulare va bene che sia iOS, che sia Android perché tanto l'applicazione è uguale per tutti vi consiglio solo una cosa, cellulare usatelo senza custodia perché si incastra molto meglio date meno peso da gestire alla Gimbal e quindi è molto più facile da utilizzare e la stressiamo di meno soprattutto allora come funziona? vi faccio vedere prima di tutto come si equilibra il tutto perché tante volte poi uno compra il giochino così magari non guarda meno le istruzioni e fa e mo cosa cavolo faccio? allora la cosa è molto semplice, si mette per prima cosa il cellulare qua vedete è semplicemente un coso che stringe e si fa scorrere in basso fino a toccare con la parte qua vedete la Gimbal è dotata fondamentalmente di tre motori un motore qua, un motore qua e un motore qua che sono quelli che vi permettono appunto di giocare e di stabilizzare tutto il movimento cosa si fa a questo punto? si mette così, vedete il cellulare è completamente squilibrato e allora ci si muove, ci sono due ghiere, due rotelle da aprire anzi vi conviene mettere il cellulare dentro quando le rotelle sono completamente aperte e a questo punto è un discorso veramente di fino cioè si va a cercare, vedete tiro in qua, no va troppo tiro in là e ci siamo quasi, ancora un pochino in là, ok da questo per quanto riguarda l'orizzontalità siamo a posto non va ancora bene da questo punto di vista perché vedete è ancora inclinato e allora cosa faccio? sposto quello che tiene qua così troppo è una roba del genere più o meno va bene poi diciamo che se usate sempre lo stesso cellulare potete anche lasciarla con i vostri settaggi già pronti questo discorso lo fate una volta sola ok vedete al momento mi sembra sia ben equilibrato quindi da questa rotella e questa rotella possono essere chiuse così che a questo punto il cellulare non si muove cioè la cosa non si muove più una e due a posto ok? allora prima di tutto ecco una cosa quei cellulari tanto grandi che abbiamo adesso come vedete c'è il rischio che vada a toccare lì sotto qua non tocca ma veramente per poco quindi lì di nuovo quando vi dicevo non mettete la cover perché con la cover aumentata ancora un po' la spessore a questo punto è praticamente sicuro che vada a toccarvi lì sotto quindi andate un po' a limitare eventuali movimenti detto ciò allora cominciamo a sbloccare il cellulare facciamolo finché non ho ancora acceso nulla così a me non mi riconosce il faccione allora a questo punto il discorso è molto semplice si tiene premuto il pulsante start c'è start il pulsantone qua e voilà ok? come vedete abbiamo queste le possiamo chiudere per usarla come vedete va a ammortizzare tutti i movimenti come vedete così così quindi possiamo cominciare a fare delle riprese molto soft che vi aiutano appunto quando fate dei filmati dato che ormai comunque i cellulari hanno una buona qualità video che cos'è una gimbal? una gimbal fondamentalmente è un pezzo un affare dotato di tre motori che vi permette di stabilizzare il movimento della cosa con cui state riprendendo d'accordo? allora il fondamentalmente le gimbal fino ad oggi sono sempre costate tantissimo anche perché le hanno pensate soprattutto per macchine fotografiche per videocamere estremamente pesanti e quindi i tre motori devono sopportare insomma un peso come si deve ma adesso che i cellulari fanno anche delle riprese importanti giustamente hanno pensato facciamo anche la gimbal per il cellulare e quindi questo è uno dei prodotti ce ne sono tanti però diciamo che DJI è abbastanza una sicurezza in questo campo è un prodotto che vi permette di avere ad un prezzo decente una gimbal per il cellulare che ormai fa una ripresa di tutto rispetto il movimento che è molto molto stabilizzato ok quindi questo lo vedete già così ma la cosa divertente è che è molto stabilizzato anche quando si cammina o si corre ho realizzato due filmatini che adesso vi propongo per far vedere come stabilizza bene la camminata e la corsa infatti dall'app voi potete scegliere se stabilizzare in walk mode cioè in modalità camminata oppure nell'altra modalità che è run mode mi sembra adesso scusate non me lo ricordo mai no sport mode ok quindi modalità sport dove le vibrazioni sono un po' più alte come vedete dalla walk mode stabilizza benissimo ok la ripresa è molto fluida molto bella in sport mode adesso vedete il filmato che vi ho fatto ho cercato di correre un pochino scusate la corsa che non è bellissima però insomma funziona abbastanza praticamente con lo sport mode anche in questo caso nonostante stessi correndo abbastanza chiaro non sono un centometrista la ripresa è comunque risultata abbastanza fluida detto ciò però non è tutto quello che fa perché ovviamente ammortizzare le riprese così è utile ma fino a un certo punto se la usate così senza usare la sua app va bene l'unica cosa dovete usare l'app della ripresa video del proprio cellulare quindi l'app che fa i video dell'iphone del cellulare android eccetera che per carità vanno benone anzi vi permettono di usare l'effetto bokeh che va tanto di moda bokeh chiamatelo come volete mentre invece con l'app sua ovviamente non potete usare queste modalità però andate sull'app che si chiama road rack no scusate road rack è quella che uso per registrare col microfono in questo momento sto registrando un'altra cosa quello della dji che si chiama dji go e allora vediamo se mi riesce provo a registrare lo schermo ok registriamo lo schermo allora dji go perfetto schiacciamo connect your device ah giustamente mi dice accendi bluetooth perché io ho messo modalità aereo per non farmi chiamare però a questo punto ok osmo connect a posto vedete ho ripreso vediamo stefania che mi riprende e adesso vediamo me così vedete si può usare in modalità selfie si può usare ovviamente per riprendere dall'altra parte e come vedete allora a questo punto io posso usare il joystick che c'è qua per far andare su e giù la ripresa spero si riesca a vedere ok ah giustamente stavo inquadrando il riflettore che come vedete è stato utilizzato ok quindi posso fare su e giù per cambiare la ripresa destra e sinistra se premo due volte il pulsante quello di accensione si riposiziona in modalità classica d'accordo quindi si riposiziona al centro a questo punto direte va bene ok ora posso fare dei filmati muovendo sia a mano che tramite il joystick poi posso zoomare e dezoommare ovviamente non posso zoomare quando la telecamera è ripresa da questo lato quando è ripresa dall'altro si ora va bene quindi cosa può fare di più questa DJI fondamentalmente vi permette di effettuare due tre tipi di riprese in più che possono essere interessanti ora vediamo quali sono la gimbal è interessante perché vi permette anche di realizzare delle cosine in più come ad esempio delle foto panoramiche o quelli che sono i time lapse che possono essere più o meno in movimento vi faccio capire meglio ad esempio si può selezionare la modalità foto e nella foto vi permette di selezionare panoramica e a questo punto gli si dà semplicemente di iniziare a farla e vedete fa una foto due tre poi scende al piano intermedio ne fa altre tre e poi in basso ok e voi dovete stare semplicemente lì aspettare questo ovviamente lo fa unicamente con il software della DJI non potete farlo con la macchina fotografica quella che è standard sul vostro cellulare benissimo questa foto di casa mia la possiamo anche chiudere e poi ci sono le modalità video che sono un po' più interessanti allora le modalità video più interessanti sono il time lapse che conoscete tutti ovvero gli si dà lei rimane lì fermo a questo punto è come avere un treppiede fondamentalmente gli si dice quanto deve durare il time lapse potete anche farlo free quindi durata fino a che non gli date lo stop voi e ogni quanto deve fare una foto che si va da un minimo di mezzo secondo ad un massimo di tantissimo cioè oltre il minuto insomma quindi però diciamo che per vedere i movimenti quelli simpatici è interessante il mezzo secondo a questo punto siete voi a dover cambiare la ripresa d'accordo? quindi con il time lapse normale chiaramente non con questa velocità se non viene che fa schifo ma le modalità veramente interessanti non è il time lapse quanto il motion time lapse dal motion time lapse è interessante perché vedete allora io comincio a inquadrare una zona e gli dico parti da lì poi inquadro un'altra zona ad esempio lì gli dico passa in quel punto lì e poi gli dico vai ad esempio qua sotto e poi ancora un po' a destra e vai lì a questo punto gli do next gli dico fai una foto ogni mezzo secondo adesso lo facciamo durare un minuto quindi lui farà foto per un minuto andando così la cosa carina è che vi dice guarda realizzando una foto ogni mezzo secondo con questo movimento con il fatto che il filmato cioè che il movimento totale dura un minuto il tuo filmato finale verrà filmato il time lapse finale in movimento motion time lapse sarà di 4 secondi quindi vi fate anche un'idea di quanto può durare gli fate start come vedete lui si posiziona e parte e comincia a fare foto ora non sentite più il rumore della foto perché sarebbe di continuo ta 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 cioè ogni mezzo secondo però come vedete lui sta facendo esattamente il movimento che gli abbiamo detto noi e a quel punto e pian piano si sposta continua a fare una foto dietro l'altra e e basta fa tutto il movimento vi compone il time lapse in movimento che è un effetto carinissimo come potete vedere ad esempio dai dal time lapse che vedete durante il video che ho fatto di prova mentre ero mentre ero fuori è un time lapse che impostati gli istanti giusti cioè non gli istanti giusti scusate i punti giusti in cui passare e impostato quanto debba fare le foto può venire veramente veramente carino da aggiungere al a un vostro a un vostro lavoro d'accordo questo adesso sta finendo aspettiamo 5 secondi così l'ha finito potete anche interromperlo prima ma già che ci siamo lo lasciamo finire a posto ha fatto il motion time lapse a questo punto c'è l'ultima modalità che è l'hyper lapse che ci introduce a una delle caratteristiche interessanti della gimbal che è il 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 motion no scusate il tracking cioè il fatto che posso tenere il fuoco su un certo oggetto durante i filmati normali noi possiamo selezionare un quadrato verde intorno a qualcosa e a quel punto muovendoci noi semplicemente la macchina cioè la macchina il tutto il sistema cercherà di far rimanere sempre in inquadratura quella parte lì d'accordo? proviamo un attimo con un filmato normale vi faccio vedere come funziona ad esempio riprendo Stefania che mi sta amorevolmente riprendendo vedete io giro senza toccare nulla in automatico la gimbal si ruota per avere sempre in inquadratura lo stesso soggetto ora questa roba qua è interessantissima se attiviamo l'hyper lapse l'hyper lapse è un time lapse normale quindi un time lapse in cui si fa una foto ogni x però mantenendo un certo soggetto mentre che ci muoviamo d'accordo? quindi io posso dirgli va bene riprendimi questo a questo punto comincio a muovermi verso quel soggetto e parto con il time lapse è carinissimo perché vedete l'oggetto man mano che si avvicina come ad esempio in questo brevissimo filmato che ho realizzato in esterno che adesso vi faccio vedere praticamente è molto bello ad esempio quando ci si muove a piedi nelle città verso un monumento quindi cominciate a inquadrare da lontano il monumento man mano che vi avvicinate tenendo semplicemente questo in mano la gimbal si gira in automatico riprendendo sempre il monumento quindi man mano che vi avvicinate lui vi fa una foto ogni x che avete deciso voi ve le compone tutte insieme e avete un time lapse che si chiama hyper lapse cioè un time lapse in cui il soggetto rimane sempre lo stesso anche se voi vi muovete ok? quindi questa è una modalità molto carina chiaro che è difficile da realizzare perché il movimento deve essere sufficientemente lungo perché il time lapse venga di una durata decente d'accordo? però in generale è carino allora una cosa che non vi ho detto prima è che la batteria una volta caricato dura all'incirca 15 ore quantomeno lo danno per questa durata che è una signora durata vi permette di usarla praticamente tutto il giorno con buona probabilità vi muore il cellulare prima e ha una cosa carina tra l'altro che non vi ho detto ovvero che qua dietro è lo sportellino che vi permette di ricaricare il cellulare mentre la state usando quindi la batteria della gimbal la usate per ricaricare anche il cellulare l'app che della DJI tra l'altro ha una cosa molto interessante ovvero che una volta che avete realizzato un tot di riprese quindi faccio la ripresa al gatto che si muove faccio la ripresa alla mamma che sta cucinando faccio la ripresa mentre faccio la camminata in esterno dopo aver mangiato un sacco di panettoni roba del genere la cosa carina è che una volta che avete fatto un tot di filmati nell'app quella della DJI c'è una modalità che si chiama modalità editor in cui in automatico vi crea un filmatino di 30 secondi prendendo spezzoni di qua e di là e mettendoci la musichetta sotto che è carino devo dire tante volte ci azzecca abbastanza nel mettere le cose una dietro l'altra hanno degli algoritmi interessanti volendo poi potete sostituire il singolo spezzone con un altro potete prendere magari lo spezzone che durava 3 secondi prendeva il momento in cui avevate la faccia brutta lo spostate in avanti in cui avete la faccia un po' più bella d'accordo potete potete modificarlo però in automatico vi crea un tot di un tot di spezzoni cioè un tot di di video automatici da 30 secondi che sono carini perché tra l'altro vi mette anche la musichetta sotto e ciò è veramente a gratis cioè se vi va bene tra l'altro quel filmato lì tac avete un filmato di 30 secondi da pubblicare che vi fa vedere le vostre vacanze e mentre state rincorrendo il gatto che probabilmente ha mangiato più di voi diciamo che quest'app questo gioiellino è interessante perché appunto vi permette di portando in giro un peso di all'incirca mezzo chilo di sfruttare in maniera molto 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 più bella le qualità molto migliore le qualità video del vostro cellulare ormai tutti abbiamo cellulari che fanno riprese veramente esagerate dal punto di vista della bellezza perché tutti hanno cellulari che fanno addirittura il 4k a parte che il 4k è bellissimo ma bisogna poi avere un computer in grado di gestirlo not so easy ok detto ciò vi permette di sfruttare il vostro cellulare è vero che adesso è uscito un nuovo gioiellino della osmo sempre della dji che in questo spazio qua fondamentalmente vi dà a disposizione già una camera che fa praticamente le stesse cose che fa questa ma in uno spazio molto più compatto è anche vero che costa tre volte tanto è anche vero che il cellulare ce l'avete sempre appresso quindi forse il cellulare vi dà anche un po' più libertà di ripresa perché non avete la camera fissa ormai i cellulare hanno quasi tutti due fotocamere quindi magari potete sfruttare anche la seconda zoomando un po' invece l'altra la camera è fissa è un po' grandangolare quindi diciamo sono oggetti diversi l'altra è estremamente portatile questo qua invece è un po' meno portatile ma vi permette di fare cose veramente veramente interessanti sfruttando soprattutto una cosa che abbiamo già tutti ovvero il nostro cellulare detto ciò lo trovate ovviamente su Amazon eccetera ad un prezzo che secondo me è molto invitante perché questa costa 150 euro durante il Black Friday è scesa mi sembra 120 130 quindi volendo approfittare anche di del prossimo Black Friday che sarà a novembre comunque se vi piace adesso prendetela già adesso perché vi togliete delle soddisfazioni almeno per 150 euro vi permette finalmente di realizzare dei filmati col cellulare che sono non dico professionali perché un filmato con un cellulare non è professionale bla 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 però vi permette insomma di aggiungere alle vostre riprese ai vostri filmati anche solo casalinghi delle riprese secondo me di livello già molto alto e poi il bello è che mentre si usa chiudendo questo potete anche lasciarlo aperto insomma comunque vi permette di cambiare l'inquadratura e avete il pulsante di registrazione qua volendo lo schermo non lo toccate perché volendo potete far partire la registrazione da schermo ma se no lo usate semplicemente schiacciando da qua detto ciò cominciate a riprendere e finiamo con una ripresa di me stesso facciamo così registriamo e con questo vi saluto ci vediamo alla prossima www.stefanotealdi.com ciao www.stefanotealdi.com www.stefanotealdi.com www.stefanotealdi.com